salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci troviamo all'interno di un audi a1 e andremo a disattivare la spiglia e il suono della cintura di sicurezza così da evitare questo fastidiosissimo rumorino diciamo delle volte è molto fastidioso ciò non comporta come sempre vi ripeto di mettere sempre la cintura di sicurezza e di stare molto attenti alla guida fatto ciò partiamo con la codifica vera e proprio come sempre noi utilizziamo il sistema wcds il cavo vag perfetto adesso vi darò vedere adesso utilizzando una versione in italiano 18.2.1 e come sempre la prima cosa che vi consiglio di fare sempre è quella di andare nella scansione di tutte le centraline e andare a fare una breve scansione andiamo ad impostarci la nostra macchina adesso si tratta di un audi a1 questo modello qua selezioniamo e andiamo a fare su iniziare io in questo caso per per motivi anche per non fare il video troppo lungo già l'ho fatta la scansione ad ogni modo una volta che esce tutta la scansione andiamo sempre anche se non è scendere cancellare questi così da si abbiamo eventualmente qualche errore qualche allarme all'interno del cruscotto del contachilometri c reset c a 0 un po' come tutto una volta fatto ciò ci dice vai avanti chiudiamo e andiamo nelle centraline della macchina perfetto per disattivare quella spia dobbiamo andare in cruscotto sarebbe la 17 andiamo qui perfetto attendiamo qualche secondo che apre legge la centralina stessa perfetto andiamo in codifica 0 7 andiamo in codifica lunga o per chi è in inglese long e long poi andiamo qui nel secondo byte 0 byte 1 perfetto qui e troviamo vertenza cinture di sicurezza attiva e montato noi che andremo a fare andiamo a selezionare quindi a deselezionare il bit 1 e andremo a uscire e quindi dare la codifica ecco qua alla centralina che adesso ci vedete ma ok nel momento in cui vado a dare la conferma ecco qua visto si è tolta la spia all'interno del quadro non compare più sul vc di s giustamente dice codifica accettata ok usciamo perfetto ok questa codifica è stata effettuata vedete che in questo caso non ho le cinture e di qua e vedete questa altra parte e all'interno del quadro non c'è niente perfetto questa è una delle codifiche molto abbastanza semplice da fare e si fa giusto in cinque minuti non è difficile da eseguire e è anche facile da svolgerla ok ragazzi se vi serve qualche altra codifica scrivetelo nei commenti come sempre vi invito a iscrivervi al canale ad attivare la campanella e se potete e se volete condividere il mio video e qualsiasi cosa sono qui a vostra disposizione a posto ragazzi ciao al prossimo video ragazzi ciao ciao Grazie.